ho terminato il cestino multiuso ho lavorato anche dei sottotazza sotto bicchieri sempre con del materiale di riciclo questa è della rafia sintetica e cestino invece l'ho lavorato con lo spago da cucina sia il fondo del cestino che sotto tazza o sotto bicchieri come li volete chiamare hanno lo stesso diametro all'incirca 9 cm vi faccio vedere la lavorazione del cestino se volete fare anche voi sotto tazza o i sottobicchieri lavorate semplicemente il fondo andiamo ad avviare un cerchio magico ci agganciamo con un punto catenella e all'interno andiamo a lavorare sei punti bassi 1 2 3 4 5 e 6 andiamo a stringere l'anello e vi faccio vedere una chiusura alternativa che non va a creare quella anti estetica riga che si viene a formare nella chiusura giro delle lavorazioni geometriche sto usando uno spago in juta sono tutti materiali di rimanenza da altre lavorazioni vedete che ho sfilato l'uncinetto vado a cercare la parte superiore del primo punto di lavorazione del giro le due catenelle le due catenelle le cerco di allargarle un pochettino volto il lavoro entro nel punto che ho allargato il primo punto di lavorazione del giro sottostante vado a prendere la solina che avevo sfilato dall'uncinetto e che l'ultimo punto di lavorazione e lo tiro semplicemente fuori in questo modo dalla parte rovescia porto di nuovo il lavoro e riprendo la mia lavorazione nel secondo giro andiamo a lavorare tutto un giro di aumenti e lavoreremo due punti bassi per ogni punto di base siamo partiti con sei punti quindi nei giri successivi gli aumenti andranno a rispettare i punti di partenza o meglio in ogni giro noi andiamo ad aumentare di sei punti un giro lo andiamo ad avviare con i punti singoli un altro giro io l'ho avviato direttamente con gli aumenti per fare in modo che gli aumenti stessi si vadano a distribuire in modo differente durante tutta la lavorazione e diano una forma più definita al cerchio allungo leggermente la solina vado nel primo punto laddove ho chiuso il giro e lavoro i miei due punti bassi del primo aumento se andate a lavorare con dei filati come i miei tipo lo spago lo spago di juta o la rafia o la fettuccina il cordino fate in modo che la lavorazione sia morbida e la tensione non troppo stretta altrimenti non riuscirete ad entrare nei punti vado nel punto successivo il lavoro il secondo aumento e continuo in questo modo fino a completare tutto il giro alla fine del quale avremo 12 punti ho terminato lavorando tutti i miei aumenti alla fine del giro o 12 punti e andiamo a fare la chiusura come abbiamo fatto prima sfiliamo l'uncinetto cerchiamo di allargare un pochino nel caso sia stretto la parte superiore del primo punto del giro voltiamo il lavoro entriamo da dietro nel primo punto di inizio giro peschiamo l'anellino della maglia che abbiamo sfilato dall'uncinetto e la facciamo passare attraverso il punto voltiamo di nuovo il lavoro e andiamo a lavorare il terzo giro quando chiudete i giri tirando fuori l'anellino se occorre tirate un pochino il filo di lavorazione per andare ad assestare la maglia il terzo giro lo avviamo con il punto singolo quindi entro di nuovo nella maglia in cui ho chiuso il giro adesso e vado a lavorare il punto singolo in quello successivo l'aumento quindi vado a lavorare due punti bassi nello stesso punto di base un punto singolo in quello successivo e continuo per tutto il giro lavorando una un punto singolo tra un aumento e l'altro quindi vado a lavorare l'aumento perché il punto singolo l'ho lavorato e vado a concludere il terzo giro ho concluso anche il terzo giro e lo andiamo a chiudere come per i giri precedenti sfiliamo l'uncinetto da dietro entriamo nel primo punto di lavorazione prendo la solina che ho sfilato la tiro attraverso il punto e chiude il mio giro volte il lavoro sul davanti e cominciamo con il quarto nel quarto giro partiremo direttamente con il primo aumento quindi vado nel punto in cui ho chiuso adesso il giro il lavoro l'aumento 1 e 2 nel quarto giro tra un aumento e l'altro andiamo a lavorare due punti singoli nei due punti successivi quindi lavoro il primo 1 nel successivo vado a lavorare il secondo punto singolo vado a lavorare l'aumento e completo il giro lavorando i due punti singoli tra un aumento e l'altro ho terminato anche il quarto giro e se state lavorando correttamente dopo l'ultimo aumento vi dovrete trovare i due punti singoli da lavorare 1 e 2 e andiamo a chiudere il giro come abbiamo fatto per i precedenti se la parte superiore del punto è stretta andiamo ad allargare facendo passare l'uncinetto attraverso le due catenelle e poi da dietro andiamo a chiudere il giro vedete quando vi dicevo di tenere la tensione del filo morbida altrimenti si ha difficoltà nel lavorare vado dietro nel punto prendo la solina e chiudo il giro nel quinto giro andremo a lavorare tra un aumento e l'altro tre punti singoli se ci avete fatto caso in ogni giro tra i due aumenti andiamo ad aumentare di un punto i punti singoli che li separano in questo giro andremo ad iniziare con i punti singoli quindi rientro nel punto in cui ho chiuso il giro e vado a lavorare il primo punto basso lavoro il secondo che lavora il terzo nel quarto punto del quinto giro vado a lavorare l'aumento 1 e 2 e continuo lavorando i tre punti singoli che mi separano dal prossimo aumento 2 e 3 vado a lavorare l'aumento e alla fine del giro se avete lavorato correttamente sull'ultimo punto vi ritroverete a dover lavorare l'ultimo aumento del quinto giro sono alla fine del giro ho lavorato i miei tre punti singoli e mi ritrovo a lavorare come vi dicevo l'aumento sul punto finale quindi vado a lavorare l'ultimo aumento di questo giro e chiudiamo come per i precedenti vado ad allargare un pochino la parte superiore del primo punto di lavorazione di questo giro vedete che ho già sfilato il punto molto il lavoro entro da dietro prendo la solina e vado a chiudere il giro andiamo a lavorare il sesto giro e in questo giro partiremo direttamente con l'aumento e tra un aumento e l'altro andiamo a lavorare quattro punti di separazione al termine dopo l'ultimo aumento ci ritroveremo col dover lavorare i quattro punti singoli prima di chiudere il giro quindi rientriamo nel punto in cui abbiamo chiuso il giro e lavoriamo l'aumento con uno e due punti bassi i quattro punti che dividono un aumento dall'altro sui quattro punti successivi 2 3 e 4 e di nuovo l'aumento i quattro punti singoli fino al prossimo aumento 2 3 e 4 e il terzo aumento e continuiamo in questo modo fino a completare tutto il sesto giro sono arrivata al termine anche del sesto giro ho lavorato all'ultimo aumento e mi ritrovo giusto i quattro punti singoli da lavorare completo il giro e chiudiamo come per i giri precedenti entrando da dietro nel primo punto di lavorazione e tirando fuori la solina dell'ultimo punto ecco qui quindi moltiamo il lavoro entriamo il punto estraiamo la solina e andiamo a chiudere anche il sesto giro se abbiamo raggiunto la misura del diametro che a noi serve affranchiamo e tagliamo il filo se invece abbiamo esigenza di aumentare ancora il diametro del nostro circhio andiamo a lavorare nel giro successivo 5 punti singoli tra un aumento e l'altro se dobbiamo aumentare ancora nell'ottavo giro lavoriamo l'aumento e 6 punti singoli tra un aumento e l'altro e così via fino ad arrivare alla misura che a noi serve alternando i due giri uno nel quale iniziamo con l'aumento e l'altro nel quale iniziamo con i punti singoli ricordandovi di aumentare per ogni giro in più un punto singolo tra un aumento e l'altro io ho raggiunto il diametro che mi serve e adesso andremo a lavorare per l'altezza del cestino io ho già lavorato un altro fondo dal quale ripartiremo per lavorare l'altezza del cestino e qui potete vedere meglio come la chiusura giro nel modo in cui l'abbiamo fatta è letteralmente inesistente e il cerchio mantiene perfettamente la sua forma circolare abbiamo lavorato tutto il fondo l'ultimo giro abbiamo 36 punti bassi adesso senza fare più aumenti quindi andremo a lavorare un giro di maglia bassa in costa punto su punto allunghiamo leggermente l'asolina entriamo solo nella costina di dietro del punto basso vedete che sopra abbiamo una catenella composta da due asoline noi entreremo solo nella costina retro del del punto estraiamo il filo e lavoriamo la nostra maglia andiamo nel punto successivo prendiamo solo la costina posteriore e facciamo il nostro punto e continuiamo in questo modo per tutto il giro entrando sempre nella costina posteriore del punto in questo giro non faremo più aumenti e ci servirà poi per andare a lavorare il laterale del nostro progetto io continuo e poi vi faccio vedere la chiusura a giro terminato il nostro giro di maglia bassa in costa la chiusura la effettuiamo come per tutto il fondo estraiamo il filo da dietro entriamo in tutte e due le asoline del punto andiamo a prendere l'asoline abbiamo sfilato attenzione al filo che deve stare sulla sinistra e lo facciamo uscire dal punto che dobbiamo chiudere rigiriamo il lavoro e andiamo adesso a lavorare il laterale in altezza del nostro progetto andremo a lavorare in questo modo vedete che il nostro punto basso è formato da due asoline nella parte superiore e una specie di v nella parte sottostante noi quando andiamo a lavorare il punto siamo soliti entrare qui sotto le due catenelle invece noi dovremo entrare adesso qui vedete qui in mezzo a questa v che si viene a formare tra una maglia e l'altra quindi allungo leggermente la solina non entro sotto le catenelle ma entro esattamente sotto il punto che ho sull'uncinetto estraggo il filo e chiudo la maglia bassa adesso non non vedrete il punto di lavorazione ma fra qualche giro vi renderete conto che assomiglia molto al punto maglia fatto ai ferri quindi noi entriamo nella catenelle sotto la catenella ma entriamo tra una maglia bassa e l'altra vedete che il buchino è diverso vedete noi non entriamo qui sotto le catenelle ma tra queste due asoline che sono una è la chiusura del punto precedente e l'altra è l'apertura del punto seguente quindi entreremo esattamente al centro delle due maglie basse non sotto le catenelle io concludo il primo giro e la chiusura è sempre la stessa sfiliamo l'uncinetto entriamo da dietro ed estraiamo il filo che abbiamo in sospeso se non vi riesce lavorare questo punto lavorate semplicemente la maglia bassa nel moto classico che sapete fare io continuo e poi vi faccio vedere ho terminato anche questo giro stiamo lavorando l'ottavo giro per l'altezza del cestino e come l'ottavo andremo a lavorare fino al tredicesimo poi faremo un giro di archetti e il giro di rifinitura vado a chiudere il giro entrando nella v che crea la maglia bassa non sotto le catenelle allargo un pochettino vado a sfilare entro da dietro prendo il filo e lo vado a far uscire dal punto per chiudere il giro rivoltiamo il lavoro sempre dritto fronte a noi e riprendiamo la lavorazione un piccolo consiglio poiché il punto maglia tende molto a restringersi vi consiglio sempre di tenere una tensione del filo morbida e non stringere troppo i punti quando li andate a lavorare allungo la mia solina vedete adesso sono più visibili le V nelle quali punteremo l'uncinetto quindi entro nel primo punto e vado a cominciare la lavorazione del nono giro e continuo lavorando il punto maglia fino al tredicesimo lo andremo a chiudere così come vi ho fatto vedere e poi andiamo a lavorare vedete come stretto andiamo a lavorare i due giri di rifinitura ecco qua ho terminato di lavorare l'altezza che a me serve vedete che l'aspetto è diverso dalla solda maglia bassa perché cambiando l'introduzione dell'uncinetto abbiamo effetti diversi del punto maglia in linea trovate già il tutorial sul canale questo è un portabottiglie basso che serve soltanto per portare in tavola le bottiglie oppure per tenere sistemati i sottobicchieri della presentazione i sottobicchieri sono fatti esattamente lavorando il fondo solo il fondo di questo piccolo cestino andiamo adesso a lavorare due giri di rifinitura il primo è un giro tutto di archetti vedete che ho già chiuso il giro vado a stringere la solina in chiusura giro nel caso in cui anche a voi si gira quando andate a chiudere raddrizzate la solina e ricominciate la vostra lavorazione andiamo a lavorare adesso con la maglia bassa normale quindi entriamo sotto le catenelle del punto lavoriamo il primo punto 5 catenelle di separazione per l'archetto 1 2 3 4 e 5 saltiamo tre punti di base 1 2 e 3 questa volta andiamo a contare le catenelle di lavorazione del punto sottostante e nel quarto lavoro una maglia bassa quindi il giro l'abbiamo iniziato con maglia bassa lavorazione classica saltando tre punti di base 1 2 e 3 nel quarto ho lavorato la maglia bassa di chiusura dell'archetto e continuo in questo modo per tutto il giro andiamo a chiudere il giro entrando nella maglia bassa di apertura chiudendo sempre allo stesso modo di tutta la lavorazione quindi entrando da dietro prendo la solina e la faccia passare attraverso il punto rivoltiamo il lavoro e lavoriamo l'ultimo giro diamo una catenella entriamo nell'archetto il primo e lavoriamo un punto basso 4 maglie alte all'interno dell'archetto stesso 1 2 3 e 4 chiudiamo la sequenza con un punto basso come all'inizio e ripetiamo una maglia bassa 4 maglie alte una maglia bassa in ogni archetto disponibile ho terminato anche il giro di ventaglietti ho chiuso con un punto bassissimo sulla catenella iniziale andrò poi a fermare il filo e questo è il risultato finale un cestino multiuso che potete usare in qualsiasi modo per portare le bottiglia in tavola per tenere in ordine i sottobicchieri come un piccolo svuotatasche da usare come un cestino involucro per cioccolatini caramelle confetti o qualsiasi cosa possa essere messa dentro spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento se non lo avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciatemi un like e condividete io vi aspetto per i prossimi video a presto